Sì, sì, abbiamo un audio da ascoltare. Allora, ascoltiamolo, ascoltiamolo. Siamo da Torino, 89 anni, sono la sua pausa. L'ultima volta che ti ho visto è stato con Melchia D'Angelo, al pranzo del 9 febbraio a Milano Badasti, che facevi la badante. Mi piace ballare, ma in questo periodo mi raccontento e ballo da solo. Mentre vi guardo in televisione. Fortunatamente domenica scorsa mio figlio Marco è venuto a suonare il cortile con il suo amico e così mi sono divertita. Cari, saluti a te a tutto lo start di prima tenna. Ma che carina! Se possibile vorrei rivederti nel disco con Valterre D'Angelo quando fai la badante. Grazie e un bacione a tutti. Ma guarda, ma è meraviglioso questo video che hai fatto. Che bello, brava. Allora io ti invito, come si chiama la signora? Io ci ho scritto solo audio, non so. Allora forse me lo sono perso, adesso vado ad ascoltarlo. Ma io voglio dire a questa meravigliosa signora, Luciana, ma sei stata bravissima, ma mandami questi video ogni tanto quando fai qualcosa, perché sei veramente una forza, si vince energia nella tua voce. da 9 anni, con i vestiti. Ma guarda, ma sei bellissima, guarda con questo taglio e sbarazzino di capelli, una grande. Brava. Subito, immediatamente per te, dai nonna dai, Valterre D'Angelo insieme a Magnon Giulietti. Dai, nonna dai, carinissima questa, brava.